Buongiorno e benvenuti alla Zuppa di Porro di oggi, venerdì 16 giugno. Oggi è il giorno dei martiri, va bene? Tutti si sentono vittime e martiri. Il primo martire sulla legge dello Ius Soli è il Ministra Fedeli, che cade rocambolescamente, prende degli antidolorifici, aspirina, una fasciatura e martire anche centinaio, che è il leghista che l'avrebbe fatta cadere, ovviamente avrebbe indotto alla caduta, e anche lui ha forse due microfatture, tutti martiri, forse lo noto abbastanza Feltri, Mattia Feltri oggi che un po' ci scherza sul suo rubrichino sulla stampa, martiri ragazzi di Casa Pound che volevano entrare nel Parlamento per far casino, ma il Parlamento già faceva casino in sé. Lo Ius Soli ha creato questo martire, la Fedeli che si immola per la grande battaglia di libertà, cioè quella di dare lo Ius Soli. Se voi leggete oggi i giornali italiani, tranne uno, che lo fa molto bene, cioè il giornale, non c'è nessun giornale che vi spieghi esattamente che cacchio è questo Ius Soli, dove viene applicato, cosa cambia, cosa non cambia, e tutta politica mi fa girare le balle, mi fa girare le palle questa roba in una maniera incredibile. Se uno oggi legge i giornali, ma di fatti non li legge nessuno, si chiede per prima cosa cosa cambia con lo Ius Soli. No, non lo spieghiamo, quello che spieghiamo è che ieri c'è stato casino di quattro parlamentari che non rappresentano nessuno, c'è stato casino per far passare una legge di cui noi non abbiamo spiegato niente sui giornali. In parte questa lacuna è colmata dal giornale, cioè un giornale che non vuole lo Ius Soli. Lasciamo perdere i commenti, arriveremo dopo, se no facciamo lo stesso errore dei giornali. E cioè oggi con due pezzi, pellicetti, e un altro pezzo di cui non mi ricordo, un taglio basso, mi scuso per quella collega, si spiega esattamente cosa cambierebbe con questa legge. E il fatto che in Italia potrebbero entrare e diventare cittadini italiani con due modalità innovative rispetto al passato, coloro che hanno più di 12 anni che dimostrano di avere lo Ius Culture, cioè di conoscere la cultura italiana, chissà chi lo approverà questo Ius Culture, e coloro che nascono in Italia da un genitore almeno che ha un permesso di soggiorno di lungo periodo, di almeno un permesso di soggiorno. Si parla, secondo questo nei giornali c'è scritto non solo sul giornale, di 800.000 persone che potrebbero diventare immediatamente italiane. Questi sono i fatti, null'altro che i fatti. Pellicetti sul giornale, a pagina 3, dice per quali motivi questa cosa è deprecabile, ma nel raccontarlo anche lui racconta i fatti, spiega perché in tanti paesi non c'è lo Ius Soli, spiega perché in Gran Bretagna c'era ed è stato abolito, spiega perché c'è negli Stati Uniti, spiega qual è il costo economico dello Ius Soli, insomma fanno ragionamenti concreti. Ecco, il punto è che su questa materia non si possono fare ragionamenti concreti, perché è diventata una questione di cultura. Chi è contro lo Ius Soli, come titola bene oggi Michele Ainis su Repubblica, è un fascista, chiaro? Fascista. Com'è il titolo di Repubblica? Fascismo in Parlamento, una cosa di questo tipo. Allora, chi è contro lo Ius Soli? È un fascista, è un cattivo, è un delinquente. Quando poi leggete Sallusti, buono il suo fondo di oggi, dice che il fatto di rendere automatico lo Ius Soli, cioè la cittadinanza italiana, è il problema. Non rendere cittadini italiani, persone che sono nate in Italia o che vivono, tra l'altro già oggi esiste questo sistema, a 18 anni dovrebbero diventare italiani più o meno in maniera automatica, tant'è che l'anno scorso in Italia è uno dei paesi in cui ha avuto più immigrati stranieri che sono diventati italiani, 50.000, si possono migliorare le cose, eccetera. Ma attaccare di fascismo o considerare poco moderno che contro lo Ius Soli mi sembra una esagerazione. Questo si capisce molto, molto, molto bene, secondo me, dal giornale che oggi fa un buon lavoro su questo, pur essendo determinato nel negare lo Ius Soli. Sullo Ius Soli c'è poi un'altra vicenda che si incardina, e cioè il fatto che il Movimento 5 Stelle è con la Lega contraria allo Ius Soli, tant'è che si è astenuta al Senato. Al Senato astenersi vuol dire essere contraria ad una legge. Questo non è perdonato al Movimento 5 Stelle, tanto che ieri Repubblica aveva fatto uno scoop, tra virgolette, in cui si diceva che Davide Casaleggio si sarebbe visto con Salvini. Apertura di pagina, cioè si sarebbe saldato l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle con la Lega. Hanno legato tutti, tutti, tutti. E oggi un altro martire è Calabresi, che con un fondo dice che modo di fare hanno i grillini, per cui, e questo ha ragione Calabresi, per cui se una cosa la dice Repubblica è falsa, ci vogliono mille fonti che le verificano. Se una cosa la dicono loro non c'è nessuna fonte che bisogna verificare, perché è verità. Questi atteggiamenti i grillini ce l'hanno di non essere rigorosi nelle loro accuse. Ma la differenza che Calabresi sfugge è che i grillini sono dei politici piuttosto inesperti, diciamo che non hanno lo Ius Soli della politica, mentre lui dovrebbe essere un giornalista che le fonti le va a verificare. Tutti i giornali oggi dicono che i due, Davide Casaleggio, lo stesso Repubblica, cita il fatto che sia Casaleggio sia Salvini negano di essersi mai visti. Insomma, la cosa mi riguarda relativamente, quello che mi interessa relativamente. Ma Calabresi oggi, ve lo segnalo, fa il suo fundino di 50 righe in cui piagnucola l'idea che i grillini lo attaccano. Anch'io piagnucolo spesso sui grillini, perché sono loro e i loro, diciamo più che altro, quei cretini dei loro ultra, come tutti gli ultra, sono il peggio che si possa immaginare. Ma vabbè, insomma, devo dire che io tendenzialmente sono abbastanza, in questo caso sto con i giornali, perché quando noi veniamo considerati dei morti che camminiamo, quando noi veniamo insultati in continuazione da Grillo, insomma Grillo stesse calmino sul suo atteggiamento. Grillo io non manderei a quel paese ogni volta che con questa rietta così da santone ci spiega quello che deve avvenire. Poi se qualche volta hanno ragione, benissimo, come tutti quanti possono avere ragione. Però il santone con la barba, Kaiser Sosa, magari facesse meno l'oracolo. L'oracolo lo fa Zoro, che era un conduttore di Rai 3, che se ne è andato alla 7, legittimamente perché il suo capo di Rai 3 se ne è andato alla 7, e che oggi viene intervistato e dice nessuno mi ha difeso quando Alfano mi ha attaccato. Azzoro, ma di che stai parlando? Azzoro, come diresti tu, ma di che stai parlando? Ma, sto piagnu... Sei andato alla 7, perché ti davano più soldi, perché c'era Salerno, perché ti divertivi, perché ti sentivi più libero, ma adesso titolare su Repubblica che nessuno ti ha difeso per Alfano fai ridere i polli, i polli, i polli. Cioè, tu stesso faresti una trasmissione prendendoti per il culo su quanto è ridicolo quel titolo che ha fatto Repubblica. Ma, vabbè, la sinistra chic può dire qualsiasi cosa, anche che il far capire che se ne va via della Rai perché non si è sentito tutelato perché Alfano lo ha. Secondo me l'hanno titolato mare in realtà il pezzo di Repubblica. Detto questo, Prodi si incontra con Renzi e chissene, però certo, se questa è la novità del paese, cioè che Renzi deve andare da Prodi per cercare di avere un cappello politico per la sinistra, siamo messi bene. e spero che tutti voi leggiate il pezzo di oggi, l'ha scritto anche di Vico sul Corriere della Sera, ma il pezzo oggi di Cerasa è il migliore perché oggi, venerdì, come tutti, porca puttana di venerdì, peraltro d'estate, eccetera, inizio dell'estate c'è lo sciopero dei trasporti, a scioperare Cobas, UBE, tutti i sindacati di base, sapete perché? Contro le liberalizzazioni e le privatizzazioni. Questo è il motivo per il quale scioperano il venerdì questi sindacati che sono diventati, come dice Cerasa, vogliono solo difendere la loro rendita di posizione. Io che ho sempre attaccato la triplice, come si chiama, Cigelle, Cisle, Will, devo dire che non c'è, che forse ho sbagliato, ecco, questo è un mea culpa, forse ho sbagliato perché il vero motivo per il quale oggi le cose non funzionano è perché questi sindacati rappresentativi di minoranze riescono a mettere in ginocchio un paese per difendere le loro anacronistiche minoranze, va bene? Io li privatizzerei tutti, tutti queste aziende municipalizzate e dei trasporti, tutte, tutte, perché gestite di merda come sono gestite ora non possono esserlo. Vi ricordo sempre le famose ferrovie del sud-est, come si chiamano, quelle dei treni sul binario unico che perdono 400 milioni proprio perché pubbliche e nessuno le ha privatizzate. Da privatizzare tutte o da comportarsi in maniera privata come faceva Moretti con le ferrovie dello Stato. Moretti, io vorrei Moretti, quello che è indagato, quello là, a prendere a carci nel sedere tutti questi sindacati che scioperano il venerdì, va bene? Tanto quello che conta sono i loro diritti, non quelli dei trasportati. Il Consiglio di Stato si rimangia quello che succedeva sul Tar per riguardo ai direttori dei musei, lo leggete su tutti i giornali, in realtà non è che cancella la norma per la quale il Tar aveva detto che non erano nominabili cinque direttori esteri dei musei italiani. No, non cancella quella decisione del Tar, fa sì che i cinque direttori del museo possano lavorare fino al 26 ottobre quando il Consiglio di Stato si pronuncerà. Questo è il paese, questo paese quindi ha detto no al Tar, se leggete bene ha detto lavorate e poi il 26 ottobre ci sarà l'udienza. Franceschini è tutto contento ma l'udienza potrebbe dare ragione ipoteticamente al Tar anche se questa decisione sembra preludere al fatto che il Consiglio di Stato smentisca il Tar. Si può vivere in un paese così? No, non si può vivere perché lo Stato si può permettere con i nostri soldi di giocare direttore entra direttore esce un'azienda privata un privato un cittadino un bar un commerciante come cacchio fa a vivere con questo diritto amministrativo? Come fa a vivere Donna Rumma con 4,5 milioni di euro soltanto di ingaggio da parte del Milan se lo deve essere chiesto il suo come si chiama procuratore Raiola. La storia di Donna Rumma io non mi occupo molto di calcio sono anche ridicolo quando parlo di cose che non conosco. Ho letto oggi Marco Zucchetti sul giornale e mi ha convinto l'idea che il portiere giovane di 18 anni del Milan nato del Milan che ha scommesso il Milan su di lui che è diventato un grande portiere per merito suo ma anche per perito pare del preparatore del Milan oltre che del suo talento rifiuta di continuare a lavorare con il Milan nonostante i soldi mi sembra di capire che gli possono dare gli altri siano più o meno simili. Bene e l'anno prossimo rischia anche di non giocare proprio per questo motivo. Questa è una storia ridicola è una storia ridicola perché secondo me ha 18 anni quello che conta ancora un po' il cuore certo si studia si deve avere la passione si deve pensare ma sai su quei soldi forse il cuore può essere ben anestetizzato anche da possibili 500, 1 milione 2 milioni di euro in più insomma nella vita contano tante cose i soldi contano ve lo dice uno che certamente non ha un atteggiamento socialista o che ami le uguaglianze non sono scandalizzato dai soldi ma sono scandalizzato dal fatto che il ragazzino di 18 anni sia così come possiamo dire sleale un termine che forse i tifosi non amano nei confronti di chi ti ha iniziato al lavoro non conosco bene le cose forse sbaglio forse sbaglio parlo di robe che non so cosa che in genere cerco di non fare però a naso donna rumma che rifiuta nella squadra dove è nato di cui è tifoso di rimanere nonostante contratti molto buoni spinto dal suo procuratore insomma non mi piace a naso non mi piace detto questo mi scuso con tutti quanti quelli che di queste cose ne sanno molto di più e che pensano che la mia sia stata un po' superficiale come analisi insomma diciamo così molto più superficiale di quello che riguarda l'economia i trasporti la politica di cui mi diletto molto di più ragazzi vi do un saluto e vi do appuntamento sì sono dell'Inter ma non c'entra nulla Filippo e vi do un saluto da uno sardinario sposto della Sardegna dove sono a Castel Sardo e vi do appuntamento domani ciao